Buongiorno e benvenuti sulle notizie. Oggi, 4 aprile, si terranno le elezioni del primo consiglio comunale dei ragazzi. I candidati sono sediti per la primaria e nove per la secondaria. Io personalmente mi sento agitato, con voglia di vincere e devo riuscire a godermi al massimo questa esperienza perché non credo che mi ricapiterà ancora. Tutti, Eser, come ti senti? Anche io sono molto agitato perché, come ha detto Pietro, si può vincere ma si può anche perdere. Tu, Emma? Molto spesso l'opinione dei bambini o dei ragazzi non è ascoltata, perciò fare la differenza è bellissima. Tu, Elisa? Io sono agitata ma non troppo perché comunque anche se non vorrei letta so che avrò fatto parte di qualcosa di importante per il nostro paese. Grazie ragazzi! Che vinca il migliore e alla prossima! Grazie! 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 Grazie!